Nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato, un ente sano, affidabile e non indebitato. È questo quanto emerso dall'analisi dei primi dati riferiti ai conti 2019 del Comune di Casale. Un quadro positivo che con orgoglio del sindaco Federico Riboldi e dell'assessore al bilancio Giovanni Battista Filiberti fa della città un esempio virtuoso a livello regionale e nazionale. In un periodo in cui gli enti locali e la finanza pubblica in generale raggiungono gli onori della cronaca solo per i ritardi nei pagamenti o l'indebitamento, Casale paga in anticipo i propri fornitori e deve ancora liquidare solo 600 euro su un totale di oltre 17 milioni. Queste le prime statistiche stilate dall'assessorato al bilancio. Le fatture pervenute nel corso dell'anno sono state 3.047 per un totale di oltre 17 milioni di euro, mentre lo stock di debito commerciale a gennaio 2020 ammonta a soli 631 euro e 28 centesimi. Tradotto in parole povere, sul totale complessivo delle fatture ricevute dal Comune solo lo 0,004% deve ancora essere pagato. Un altro dato importante è l'indice di tempestività dei pagamenti. Casale, nel 2019, ha raggiunto un indice negativo pari a meno 20,72. I suoi fornitori sono stati quindi pagati ampiamente prima delle scadenze. È scattata a partire dal 1 febbraio la cassa integrazione straordinaria, valida per un anno per tutti i dipendenti dei due stabilimenti di Casale Monferrato e Vercelli delle officine meccaniche Cerutti, storica azienda impegnata nella produzione di imballaggi e packaging. Contemporaneamente partirà l'assegno di ricollocamento, una sorta di incentivo alla riassunzione. I sindacati temono però possibili esuberi a fronte dell'ingresso in società di due partner internazionali provenienti da Canada e Messico. I due imprenditori saranno a Casale nella seconda metà di febbraio per definire l'accordo e solo allora si potranno avere notizie più certe. Inoltre, la città potrebbe perdere tutto il comparto produzione trasferito a Vercelli. Resterebbe solo la parte tecnica, amministrativa e commerciale. Sono ben 39 le persone denunciate dalla polizia di Casale nel corso del 2019 per attività illecite perpetrate attraverso internet. Tra i reati telematici più notici è il phishing, ovvero la truffa informatica effettuata inviando una mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, con l'intento di carpire dati riservati del malcapitato, numero di carta di credito, credenziali di accesso al servizio di home banking, con cui i malviventi riescono poi a prelevare denaro da conti correnti o a sostituirsi alle loro vittime acquistando per sé beni e servizi. Il reato più frequente rilevato però a Casale è la classica truffa online, tramite cui finti venditori propongono i prodotti più disparati a un valore inferiore a quello di mercato per attirare quante più persone possibili. Queste ultime, credendo di fare un affare, inviano la somma pattuita senza alcuna garanzia sulla consegna e senza utilizzare canali di pagamento certificati e garantiti. Un altro reato informatico in crescita è quello della truffa online invertita. In questo caso, le vittime sono i venditori che vengono contattati da falsi acquirenti, i quali, dopo aver concordato il prezzo e le modalità di pagamento, indicano alla vittima di raggiungere uno sportello bancario e inserire la carta di debito o di credito per ricevere la somma pattuita, cosa che comporta in realtà un pagamento su una carta prepagata anziché una ricezione di denaro. C'è forse la grande solitudine patita dietro il gesto di una pensionata sessantenne di balzola che è stata denunciata dai carabinieri di Ottilio per procurato allarme. Dal 1 gennaio 2019 al 24 gennaio 2020, la donna ha infatti chiamato per ben 282 volte il 112 dicendo di volersi suicidare. Un gesto di fatto, e per fortuna, mai neppure tentato. Il caso è stato segnalato agli assistenti sociali. Mercoledì 12 febbraio, dalle 10 alle 11, il personale del Comune di Casale sarà impegnato in un'assemblea sindacale, motivo per cui nella fascia oraria interessata non sarà garantita la normale operatività degli uffici servizi, fatta eccezione per quelli essenziali. Nel fine settimana, secondo appuntamento dell'anno per Casale, città aperta. Sabato 8 e domenica 9 febbraio saranno visitabili la Cattedrale di Sant'Evasio, la Chiesa di San Domenico e di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica, Palazzo Vitta e la Chiesa di San Michele. Al Castello del Monferrato ingresso gratuito per le due mostre 50 anni di colore dedicata a Gigi Marini e le Guerre Mondiali e il Destino dei Popoli dedicata al giorno del ricordo. Domenica alle 15 con partenza dal chiosco Informazioni Turistiche in Piazza Castello si potrà partecipare a una passeggiata in centro città con l'accompagnamento gratuito a cura dell'associazione Orizzonte Casale. Ingresso gratuito anche al Museo Civico, mentre il Tesoro del Duomo, Sacrestia Aperta e i sottoteti della Cattedrale resteranno chiusi. La riapertura è prevista per il mese di marzo. Riaprono invece dopo la pausa invernale la sinagoga e i musei ebraici. In questo caso l'ingresso è a pagamento. Il Museo Civico e la cooperativa Solidarietà e Lavoro propongono per domenica 9 febbraio alle 17, una visita guidata tematica in gipsoteca dal titolo Leonardo Bistolfi e le arti del suo tempo. Con la guida di Lia Carrer si ripercorrerà l'attività artistica dello scultore casalese che ebbe fama internazionale. Si scoprirà come Bistolfi fosse amico ed estimatore di attori, poeti, commediografi, musicisti e artisti del calibro di D'Annunzio Carducci-Toscanini-Praga. Il percorso si snoderà dalla prima sala con le opere Gli Amanti e la bellezza liberata dalla materia. Passando poi all'imponente monumento a Giosuè Carducci e al crocifisso braida della seconda sala, fino ad arrivare al potente ritratto dello scultore casalese, opera di Ivan Mestrovic e alla moneta da 20 centesimi della quinta sala. Il biglietto ridotto per tutti sarà al costo di 2,50 euro. Ingresso gratuito invece per i titolari di abbonamento Musei Piemonte. Non è necessaria la prenotazione. Sabato 8 e domenica 9 febbraio nel Bosco della Pastrona di Casale si svolgerà la prima manifestazione sportiva agonistica di Quintana Cross Race, un evento che racchiude le discipline della corsa campestre e della mountain bike. La partenza e l'arrivo delle due giornate saranno nell'area pedonale di Viale Lungopo all'imbocco dell'argine ciclopedonale che porta in zona piste ciclabili e campi sportivi del Ronzone. Due giornate di gare, la prima sabato 8 con la corsa campestre notturna. Dalle 18.30 partirà da Viale Lungopo un corteo di runner ognuno con propria luce a led in testa. Il ritrovo per gli agonisti che dovranno essere tutti muniti di certificato medico agonistico sarà a partire dalle 15 quando si apriranno le iscrizioni. 15 euro con pacco gara del valore dello stesso importo. Domenica 9 sarà invece dedicata alla combinazione delle due discipline sportive, la corsa campestre e la mountain bike per una gara a staffetta. Il ritrovo sarà alle 7.30 nei giardini del Viale Lungopo mentre la partenza è prevista alle 10.30. Un primo tratto di corsa campestre fino all'area picnic del Bosco della Pastrona e il secondo tratto in staffetta in mountain bike con due giri del percorso. Ospiti d'onore due campioni europei, Marta Menditto, medaglia d'oro di Triathlon Cross Under 23 del 2019 in Romania e medaglia di bronzo ai campionati mondiali Under 23 in Spagna. E poi Gianfranco Cucco, Monferrino, campione europeo 2018 di Duathlon Cross a Ibiza e ancora campione europeo nella categoria Age Group 25-29 anni nel 2019 di Duathlon Cross in Transilvania. Nel basket, dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa con Trapani, ecco arrivare pronto il riscatto della 9i più che travolge letteralmente un'altra siciliana, Capodorlando. Netto il risultato finale di 88-73. Decisivo diventa il divario tra la fine del secondo e l'inizio del terzo quarto quando i rosso e blu si portano sui 15 punti di vantaggio. 5 i giocatori in doppia cifra, Sims 19 punti, Roberts ed i Negri 13, Camara e Martinoni 11. Dopo due gare interne consecutive domenica prossima, 9 febbraio, 9 più, lascia il palo a Ferraris per andare in scena a Scafati.